L'Ori del Santo assolutamente senza censure, ne parla nel corso di una intervista che verrà trasmessa in onda questa sera C'è grande attesa per la terza puntata stagionale del programma Belva e condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Tra gli ospiti della giornalista anche L'Ori del Santo. Nel corso dell'intervista la showgirl televisiva ha affrontato tantissimi argomenti e risposto a domande molto scomode Anche quelle decisamente molto piccanti dove la nativa di Povegliano Veronese di certo non si è tirata assolutamente indietro. Non ha mai fatto mistero che la maggior parte degli uomini le invia foto. Tantissimi, infatti, sono gli spasimanti accecati dalla bellezza della 65enne. Anche se, qualcuno di loro, ha qualche difficoltà con la grammatica visto che difficilmente riescono ad utilizzare i congiuntivi. In merito a ciò ha risposto in questo modo, i congiuntivi non li azzecca nessuno, ma io non ho mai parlato di misure, non mi interessano le misure, zero. Ancora basiamo le relazioni sulle misure? No. L'Ori del Santo senza freni, le misure non mi interessano. In merito a questo argomento nasce un vero e proprio botta e risposta tra l'ospite e la stessa padrona di casa. Stupita dalla risposta della del Santo la Fagnani ci tiene a precisare che il suo obiettivo era quello di parlare di sintassi e, di certo, non di misure. Su questo punto, però, la showgirl ribatte e non si arrende tanto da affermare, allora in questo caso bisognerebbe cambiare la lingua italiana che, su certi punti, è decisamente troppo complicata. Ci tiene a precisare che le misure degli uomini non le interessano affatto. Anche se, allo stesso tempo, vuole sottolineare un altro aspetto molto piccante di questo argomento, l'importante è che si muova. Questo e molto altro ancora nella puntata che verrà trasmessa, in prima serata, sul secondo canale della RAI. Ciao!